Anche Salerno ha la sua panchina europea per testimoniare i valori comunitari. La seduta è stata allestita in piazza Vittorio Veneto di fronte alla stazione. L'iniziativa è stata promossa dal Circolo dei Giovani Democratici e dalla Gioventù Federalista Europea. Alla cerimonia di inaugurazione era presente tra gli altri anche il vice capogruppo alla Camera dei Deputati Piero De Luca che ha ribadito la necessità di farsi trovare pronti all'appuntamento con le risorse messe a disposizione proprio dall'Europa nel piano di ripresa e resilienza. È un simbolo molto importante, questa associazione si è costituita che oggi come trentunesima città propone la realizzazione e la creazione della panchina europea. Vuol dire far vivere dal basso i valori della presenza dell'Italia in Europa che sono valori di rispetto, di democrazia, di solidarietà, di tutela dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali. Quindi un messaggio importante ma anche un messaggio per dare il senso reale e concreto della esistenza stessa dell'Unione Europea. Le risorse che ci arriveranno e che ci sono già state destinate saranno decisive per mettere in campo progetti che consentiranno di riqualificare i nostri territori, di rendere più smart, più green, più digitale le nostre città, di migliorare la mobilità sostenibile, di migliorare gli interventi nei quartieri, gli interventi infrastrutturali soprattutto nel mezzogiorno. Quindi l'Europa vicina ai territori, l'Europa che aiuta e sostiene il rilancio e lo sviluppo dei territori e soprattutto nel mezzogiorno.